Potrebbero andare a processo alcuni tre vertici di strada dei parchi. Il procuratore di Teramo Ettore Picardi ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio e ora la palla passa nelle mani del giudice. L'inchiesta è quella portata avanti a novembre 2020 dalla Guardia di Finanza Teramana che a seguito di alcuni esposti ha indagato sulla gestione delle A24 e A25 in adempimento di contratti di pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti e abuso d'ufficio. Erano questi i reati contestati a sei persone che avevano ricoperto ruoli apicali all'interno della società concessionaria del gruppo Toto, bersaglio della polizia economico-finanziaria anche due società collegate. Cade definitivamente l'ipotesi di abuso d'ufficio per cui la procura ha richiesto l'archiviazione. Il pubblico ministero contestava l'assegnazione dei lavori sulle autostrade alla Toto Costruzioni in quanto si riteneva superato il limite di legge del 60% del valore di concessione per l'ammontare dei lavori affidati a società collegate. Già un anno fa la Cassazione aveva dato ragione a strada dei parchi, decretando il dissequestro degli oltre 21 milioni di euro confiscati. Restano in piedi gli impianti accusatori per gli altri due reati contestati, ovvero l'inadempimento dei contratti e l'attentato alla sicurezza, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio valutate le memorie difensive. La procura ritiene possano esserci responsabilità per la mancata manutenzione dei viadotti autostradali. Le indagini infatti avevano evidenziato l'ammaloramento del calcestruzzo e delle canaline di raccolta dell'acqua, nonché la grave ossidazione dei ferri delle armature esposti a vento e pioggia. La situazione dei sette viadotti teramani della A24, si leggeva nel comunicato della Guardia di Finanza, è stata causata dalla totale inadempienza dal 2009 ad oggi, degli obblighi di manutenzione ordinaria sulle opere d'arte discendenti dall'atto concessorio. Gli unici lavori svolti, secondo i militari, erano quelli su aiuole e segnaletica, utilizzando peraltro contributi statali. Dal proprio canto, Strada dei Parchi ha sempre ribadito in fondata la presunta pericolosità delle infrastrutture, richiedendo anche un incidente probatorio. Ciò non basta però placare la bufera sulla società del gruppo Toto, che è sotto inchiesta anche a Pescara, Sulmona e L'Aquila. A Sulmona si è già al processo. Nell'udienza del mese scorso, il GUP ha deciso che sarà un'ulteriore perizia a stabilire le reali condizioni dei 16 viadotti del territorio. Gli imputati sono il consigliere di amministrazione della holding del gruppo Toto, Cesare Ramadori, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Strada dei Parchi, della quale oggi è presidente, e poi Igino Lai, responsabile di esercizio di Strada dei Parchi, e Gianfranco Rapposelli, amministratore delegato di Infra Engineering, altra società del gruppo specializzata nella progettazione.